Grazie a tutti. La cosiddetta talpa che serve per la realizzazione del raddoppio ferroviario. In questo caso il problema è legato alla viabilità nella frazione di Trapitello. Sentiamo Mauro Romano. Assessore Giuseppe Sterrantino, lei sta seguendo in questi giorni il problema della viabilità di Trapitello in funzione dell'avvio dei lavori della talpa ferroviaria. Ecco, cosa abbiamo previsto, Assessore? Nelle giornate scorse abbiamo avuto un incontro insieme all'esperto gestione dell'ingegnere Brogato con i vertici della società del consorzio Messina Catania Nord che stanno avviando, hanno avviato i lavori per il raddoppio ferroviario su quello che è il tema della viabilità che molto ci sta a cuore. Il flusso veicolare è molto aumentato, quindi abbiamo chiesto almeno di garantire le fasce di rispetto dalle 7.30, 9.30, 12.30, 14.30 che è il periodo di maggior afflusso di mezzi anche dovuto all'apertura delle scuole e all'uscita delle scuole. Questo nel corso di questi giorni è stato effettuato con il nostro grande piacere e quindi spirito di collaborazione con la società che sta gestendo questi lavori. A breve si aspetta l'avvio effettivo dei lavori della Talpa, quindi con una quantitativa di terra che verrà tirata fuori dalla galleria che non farà altro che aumentare i viaggi che questi mezzi dovranno effettuare. La preoccupazione sta nel fatto che ad oggi la famosa rotatoria che bisognerà costruire davanti al cantiere e la strada di cantiere che servirà ad evitare che questi mezzi continuino a passare lungo l'abitato di Trapidello purtroppo ad oggi non è ancora pronta. A breve cercheremo di ridiscutere i termini affinché si possa garantire il passaggio di questi mezzi in notturna ed evitare quinti un maggior aggravio di mezzi pesanti nel centro abitato di Trapidello. Tataormina a Catania, l'Associazione Antimafia e Legalità accoglie nella propria sede una rappresentanza del Presidio Universitario di Libera. Si parla di una importante collaborazione per il futuro. Sentiamo Lucio Di Mauro. L'Associazione Antimafia e Legalità ha ricevuto nella propria sede una rappresentanza del Presidio Universitario di Libera, UNICT, Dario Capolicchio. Un importante incontro per una possibile collaborazione in futuro. Due realtà che perseguono gli stessi obiettivi. È stato un costruttivo e stimolante confronto soprattutto su alcune delicatissime tematiche, quale l'antimafia e la cultura della legalità. Sono stati già decisi infatti alcuni importanti progetti da realizzare, come la passeggiata della legalità che si realizzerà a ottobre. Antimafia e Legalità opera sul territorio per contrastare tutti i fenomeni mafiosi di qualunque genere, nonché in particolare l'usura e l'estorsione e la corruzione politico-amministrativa. Riteniamo che con i giovani universitari di Libera possa esserci veramente una sinergia non solo di valori comuni, ma anche di operatività. Questa esperienza sarà sicuramente interessante. L'incontro di oggi io lo ritengo estremamente positivo e sono convinto che darà buoni frutti. Libera, più precisamente, l'associazione in nome e in numero contro le mafie. È un'associazione che ormai nasce, si afferma da tanto tempo, sulla scia di quelli che sono stati il periodo delle stragi. Quindi il 92-94, l'Italia delle stragi, fino ad arrivare poi al 95, quando poi effettivamente nasce. Quella che è la nascita di Libera si accompagna a una serie di temi, come quella che è la legge sulla confisca dei beni, alle mafie. Quella che in generale è la lotta alla mafia, sotto vari aspetti e vari profili che tuttora nei suoi temi continua a continuare. Quindi i temi della confisca, ma non solo, anche i temi della formazione, tutti i rami che Libera in tutto il territorio nazionale e internazionale continuano a portare avanti. Allora, proprio perché Libera è un'associazione di associazioni, noi conosciamo da parecchio tempo la realtà di antimafia e legalità, soprattutto per come opera sul territorio catenese, abbiamo deciso di far nascere questa collaborazione per agire sicuramente in maniera più netta ed incisiva su vari fronti, per poter collaborare in varie attività, che siano i percorsi di legalità in generale, che riguardano la cultura e la legalità, quindi l'educazione anche alla cittadinanza attiva, oltre che alla legalità, ma che può riguardare collaborazione, che può riguardare gli incontri con le scuole, i percorsi della legalità che nascono appunto dall'associazione antimafia e legalità. A Custonacci la dodicesima giornata tricolore si è discusso di autonomia differenziata e premierato. Vediamo il servizio. L'autonomia differenziata e il premierato hanno dominato il dibattito della dodicesima giornata tricolore, svoltasi a Custonacci. L'evento, organizzato dal Centro Studi Dino Grammatico, con il patrocinio della Fondazione Alleanza Nazionale, ha visto la partecipazione di figure di spicco del panorama politico e culturale italiano. Tra i relatori, il senatore Mimmo Nania, l'onorevole Michele Rallo, l'onorevole Livio Marocco, l'onorevole Giuseppe Bica e Massimo Magliaro. Lo scrittore e giornalista Alberto Samonà ha moderato i lavori, stimolando un confronto vivace e costruttivo. Il tempo della responsabilità, tema centrale dell'edizione, ha offerto lo spunto per analizzare le sfide che l'Italia sta affrontando. Il dibattito sull'autonomia differenziata ha messo in luce la complessità della riforma. I sostenitori hanno enfatizzato i potenziali benefici di una gestione più efficiente delle risorse a livello locale, mentre altri relatori hanno sollevato preoccupazioni sulla possibile frammentazione dell'unità nazionale e sull'aumento delle disparità territoriali. Il premierato, d'altro canto, ha raccolto un consenso più ampio. La proposta di rafforzare il ruolo del presidente del Consiglio è stata vista come un passo verso una maggiore stabilità governativa e una più diretta responsabilità dell'esecutivo. Un momento di particolare rilievo è stato l'annuncio dell'assegnazione del premio per la cultura della legalità a Salvatore Borsellino, fratello del magistrato Paolo Borsellino. Il riconoscimento segna l'importanza del suo impegno nella lotta alla mafia e nella promozione della legalità. Come ogni anno il Centro Studi Dinogrammatico organizza la giornata tricolore, è un momento di riflessione da parte di un mondo culturale, umano, che si rivede di anno in anno, siamo già alla dodicesima edizione, ogni anno ci sono delle riflessioni che portiamo a seconda del tema attuale. Quest'anno per ovvi motivi tutto ricalca sull'aspetto del premierato, sulla riforma in essere dell'autonomia differenziata, con tante spaccettature, tante visioni, e quindi è un momento di confronto, di dialogo e di riflessione che ci porta a sviluppare in noi stessi e comunque a diffondere delle opinioni dove magari possono essere fonte di ricchezza. Riflessioni importanti da sviluppare, da portare avanti, ed è una proiezione che di anno in anno ci frega in gioco. Ci spostiamo virtualmente a Giardini Naxos dove è tornata in attività con l'avvio dell'anno scolastico la storica scuola Abbatecacciola dell'Istituto Comprensivo. Mauro Romano ne ha parlato con l'ex vicepresidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Leotta. Ex vicepresidente del Consiglio Comunale di Giardini Naxos, Giuseppe Leotta, oggi ci troviamo davanti alla scuola Abbatecacciola, ma cosa accade? Sì, personalmente ho voluto aspettare un po' che si placasse il clamore mediatico sulla vicenda e innanzitutto voglio esprimere la mia personale soddisfazione per la riapertura del plesso dopo un anno trascorso fra finte inaugurazioni, fra motivazioni accampate una dietro l'altra che erano state usate dall'amministrazione per giustificare la mancata apertura della scuola, finalmente la scuola dei giardinesi è stata riconsegnata alla comunità. Quello che volevo sottolineare è che questo traguardo è un traguardo che questa nuova giunta ha già trovato apparecchiato, se così si può dire, da chi ha gestito precedentemente la cosa pubblica, in particolare dall'assessore Talio, l'ex assessore alla cultura che ha fortemente voluto questa riapertura, l'assessore Cacciola e anche dal sottoscritto che lo voglio ricordare con forza abbiamo difeso la scelta fatta all'inizio dell'amministrazione Stracuzzi con tutti i limiti, con tutti gli errori che possiamo aver commesso nei primi due anni e mezzo, comunque abbiamo fatto una scelta consapevole che era quella di destinare i fondi all'efficientamento energetico integrati da fondi comunali per la riapertura di questa scuola e parliamo di circa 600 mila euro, con cui si è sostituito completamente il tetto che aveva delle forti problematiche, sono stati cambiati i controsuffitti, gli infissi e tanti altri lavori svolti all'interno della scuola. Col senno di poi mi sento di dire che questo è uno dei pochi lasciti che questa traumatica e travagliata esperienza amministrativa ha dato alla comunità giardinese e lo ribadisco è stata da parte nostra una scelta consapevole, investire sulle persone, su quelli che saranno i cittadini di domani in un contesto purtroppo sempre più caratterizzato da un deserto di valori politici e morali. Investire sulle scuole significa investire sul futuro della comunità. Domani è la giornata internazionale del caffè, dunque festa praticamente in tutto il mondo. In Italia si consumano 95 milioni di tazzine di caffè al giorno. Festa è il primo ottobre in tutto il mondo per celebrare la giornata internazionale del caffè. L'appuntamento è festeggiato con i 77 stati membri dell'Organizzazione Internazionale sul Caffè e le associazioni del caffè da tutto il mondo. Con l'International Coffee Day 2024 l'Organizzazione Internazionale sul Caffè invita il settore ad abbracciare la collaborazione per un'azione collettiva con il messaggio Il Caffè, il tuo rituale quotidiano, il nostro viaggio condiviso. Il tema della campagna e del messaggio è quello di sottolineare l'importanza di abbracciare la collaborazione per un'azione collettiva e il suo ruolo nel raggiungimento di uno sviluppo sostenibile nel settore globale del caffè. La campagna è costituita da video, poster a cartoline disponibili in varie lingue che ritraggono visivamente esempi di collaborazione. Per l'International Coffee Day si può utilizzare l'hashtag ICD 2024. Il report dell'ICO certifica che le esportazioni mondiali di caffè ammontavano a 11,29 milioni di sacchi a luglio 2024 rispetto ai 10,6 milioni di luglio 2023. Le esportazioni nei primi dieci mesi dell'anno caffèicolo 2023-2024 sono aumentate quindi del 10,5% a 115,01 milioni di sacchi rispetto ai 104,05 milioni di sacchi nello stesso periodo del 2022-2023. Nei 12 mesi conclusi a luglio 2024 le esportazioni di Arabica ammontavano a 82,26 milioni di sacchi rispetto ai 74,37 milioni di sacchi dell'anno scorso, mentre le esportazioni di Robusta ammontavano a 51,62 milioni di sacchi rispetto ai 49,75 milioni dell'anno precedente. In Italia, secondo l'Istituto Espresso Italiano, oltre il 73% degli italiani beve regolarmente il caffè ogni giorno e si bevono complessivamente 95 milioni di tazzine di caffè al giorno, quasi una media di 1,6 a persona. L'Istituto segnala inoltre che secondo l'area studi Mediobanca nel mondo sono 3,2 miliardi le tazzine bevute ogni giorno. Valore stimato in crescita a 3,8 miliardi di tazzine entro il 2030. Parliamo di cibo, prodotti di qualità grazie anche al Climamite, allora vediamo quali sono gli alimenti convenienti da un punto di vista economico in questo periodo. Finita la stagione di anguri e meloni, tornano sui banchi dei mercati noci, mele e cachi. L'autunno è arrivato anche alla Borsa della Spesa, il servizio di BMT e di Talmercati, rete di imprese, in collaborazione con Consumerismo No Profit, che aiuta i consumatori a orientarsi al meglio e a fare scelte alimentari consapevoli e stagionali. Il Climam è più mite, spiega BMT, sta favorendo tutte le coltivazioni tipiche di questo periodo, assicurando una corretta maturazione dei prodotti e una buona qualità. Tra le più convenienti, l'uva da tavola, che quest'anno presenta una buona qualità, nonostante il caldo torrido degli scorsi mesi. Tra le diverse varietà, l'uva Italia al momento è la più conveniente, disponibile all'ingrosso intorno ai 2 euro al chilo. Immancabili in questo periodo i cachi, di buona qualità e con prezzi regolari, che vanno da 1,30 euro a 1,50 euro per la varietà vaniglia. Mentre all'ingrosso sono disponibili in grandi quantità le noci fresche, intorno ai 3,54 euro al chilo. Infine, continua a regolare la campagna delle mele Royal Galà, iniziata qualche settimana fa con prezzi intorno a 1,50 euro al chilo. Per quanto riguarda gli ortaggi, spazio alla zucca, protagonista indiscussa di questo periodo, molto richiesta per la preparazione di zuppe e piatti caldi e a prezzi davvero molto convenienti, che oscillano da 0,80 centesimi a 1 euro al chilogrammo per la varietà lunga violina. E con l'avvicinarsi di Halloween nelle prossime settimane, saranno presenti anche le varietà ornamentali. Via libera anche al porro, disponibile da 1,40 euro a 1,60 euro al chilo. Ancora molto consigliate per la loro qualità e la loro convenienza, le patate, con un prezzo che oscilla da 0,70 centesimi a 0,90 centesimi al chilogrammo e le carote a 0,90 centesimi. Per quanto riguarda il settore ittico, sta per concludersi il fermo pesca sul versante adriatico e sta per iniziare su quello tirrenico. Nel frattempo abbonda nei mercati la lampuga, pesce tipicamente autunnale, conosciuto anche come pesce capone, con prezzi convenienti che vanno da 7 euro a 9 euro al chilo. Molto consigliato anche lo sgombro, uno tra i pesci azzurri più economici, che va dai 4 ai 6 euro al chilo all'ingrosso. Infine, tra le carni, la bassa richiesta di carni di scottona e vitellone fa rimanere ancora stabili i prezzi dei tagli più pregiati. In particolare, oscillano tra gli 8,95 euro e i 9,35 euro al chilo i prezzi all'ingrosso dei tagli del quarto posteriore di scottona e dagli 8 euro agli 8,40 euro al chilo i tagli del quarto posteriore di vitellone. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui, ma ci ritroviamo più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia dopo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS